Benvenuti su Obels, il mio canale, sul tubo italiano, con il Dr. Meg, il signor Rune, e andiamo a caccia di gente che deve pagare in un nuovo episodio di Caped, Don't Deal With The Demon, e stavolta l'ho detto anche bene, che anglofono, che anglofono. Signor Rune, ma a me veniva un dubbio, noi fondamentalmente siamo il Ghost Rider, una cosa signor Rune, ma queste qui a cosa servono? Ah, quindi lì dovrebbero essere dei platform, vogliamo provarli? Ah, per prendere i soldi? Penso di sì. Ah, qui, ok, quindi guadagniamo i soldi nei punti rossi, però i boss sono due cose diverse. Esatto. Ok. Via. Andiamo dritti, dottore, perché qui conta arrivare alla fine. Ok, conta lasciare. C'è il signor Rune? Sì. Via. Via. Aia. Via. Buono. Via. Ahia, dottore, 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 dottore. Buono. Ok. Ok. Questa è la merdina che non muore mai. Merda. Eh, niente, riproviamo. Vuoi provare a usare il suo lance? No, perché quello è più forte, anche se in effetti potrebbe essere più forte in breve periodo. Sì, è più forte, perché è più corto, ma è anche più... Eh, però ho solo due punti di te. Sperfetto. Com'è? Ho solo due punti di te. Ma sì, ma adesso... Occhio. C'è il signor Rune? Sì. Via. Ok. Sì, l'ha fatto bene. Tanto non so se ha notato che... Ah, mannaggia me. Non so se ha notato che molti effetti audio... Ma cazzo... Niente. Molti effetti audio? Sono riprovati a voce? In che senso? Sente quando esplodono i nemici? Sì. Sono... Sono fatti a voce, a bocca? Sono vocalizzi? Esatto. Questo è un kick. Eh, questo è un gran kick. Allora, tutto ciò che viene espulso dai nemici di colore rosa, teoricamente dovrebbe garantire le vite extra di cui si parlava nello scorso episodio. Ecco. Ma dobbiamo lasciarci sopra. Esatto. Via. Una cosa... Non quelli, chiaramente. Le monete le prendiamo in co-op o le prendiamo ognuno per sé? Non ne ho idea, dottore. È una domanda interessante da porsi. Le dico la verità. Però, purtroppo, non ho... Anche questo qui lo pulisco io. Ok, andiamo avanti. Eh, non so, crede si è fermato. Noi il doppio fatto non ce l'abbiamo, vero? Beh, sì. Se gli colpiamo... Ah, ok. Allora, anche quelli si possono... Perfetto. Buona sapersi. Vado, dottore. Come faccio? Now. Così? Ah, giusto. Sì, era talmente semplice che... Non so. Quelli si possono prendere se si lascia sopra. Cosa? I robini rosa? Via. Oh, cazzo! Fatto. No! Che cazzo ho fatto? Dove sono? Dottore, mi salvi. Dottore? Ok, grazie. Ecco, però sono morto io. Mi salvi lei. Ok. Eh, che cazzo! Vada... Vada avanti senza... No... C'eravamo arrivati, eh? Eh, sì. Ok, è un gran casino. Ma noi dobbiamo prenderlo per forza, proprio lì. No, è una nostra facoltà. Chiaramente, prendendolo, cosa succede? Che potenzio... Cioè, abbiamo la possibilità di caricarci le carte. E allora vaffanculo! Che cosa non ha fatto il signore? No! Però sono morto io. Eh, solo che io adesso... Eh, no, non mi prende più. Andiamo. Via. Ok, adesso qui. Calma. Ho rischiato. Cos'è successo? Perché sono morto? Perché c'era un cazzo blu? Eh, ma è il cazzo blu il problema. Lei sottovaluta il problema del cazzo blu, ma io l'ho vista. Infatti dicevo, io l'alluna è veramente Braveheart, e invece... E invece... Era Brave stronzo. Esatto. Si ricorda che qui il problema è sui blu, quindi guardiamo bene. Sì. Ecco, i problemi sono in blu, però lei va davanti perché io sono morto. Peccato. Però d'altronde... Questo è... Vada. E via! E il dottore ce l'ha fatta! Bravo! Esatto. In italiano, tra l'altro. Vabbè, è giusto. E adesso direi... se abbiamo un sacco di... Non abbiamo gli HP bonus. Grado? Beh, comunque skill level ci dà sempre... Cazzo blu è buono! Ci dà sempre da grado. Eh beh, perché... Ho visto che skill che abbiamo. Cazzo, lasci farlo. Ora, direi potremmo andare... a comprare qualcos'altro. Eh sì, cazzo. Adesso sì. Questo era quello che mi interessava, ma... non take damage to the dash. A great defense. Questo qui, che da me, è fondamentale. Io... Le dico la verità. Sarai molto per provare questo smoke bomb. Sì. Solo che non so se sono... consumabili... o se ti rimangono. Eh, il mio cuore... Io corro il rischio. Cos'è sta roba? Ah, ok. Non mi piace. Cazzo dovrebbe essere... a... all'inseguimento, forse. Cazzo. Ah, sì. Ok, allora prendo... faccio... prendo questo e l'altro. Però questo qui è molto pippa, eh. Sì. Ok. Cos'è che fa questo? All attack to increase damage. No rapid fire, no precision case. Perfetto, quindi pochissima... Bene, è la bomba caricata, insomma. Esatto. Va bene. Vedremo. Adesso andiamo contro un boss. Andiamo qua, signor Lune. Va bene. Tanto questo dovrebbe essere un boss. Il botanico... Panico botanico! Bellissimo anche in italiano, tra l'altro. E andiamo. Andiamo con regular. Cosa ci aspetterà? Una patata. Perfetto. Una patata incazzata. No, cos'è che mi ha tirato? E tra l'altro mi pare di capire che se... se... Dottore? Eh, questa non è facile, eh. Ah, possiamo... Sì. Possiamo perrare anche... Qui mi tocca andarci di lungo range, perché... Ok, questo è andato. E una. Oh, Cristo di Dio. Una cipolla! Piangerà, immagino, la sua attacca, immagino, sia a piangere. Ok. Quindi... No! Si è morti entrambi. Beh, però praticamente eravamo... A metà. No, eravamo... C'è, secondo stage. Non so quanti ce ne siano, però. Aia. 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 Preso. Cazzo, ma quanto viaggia adesso! Ok. Io metto l'altra parte, signor Buonetti. Sì. Mettiamo di... Mettiamo la cipolla. Di ostacolarci. Cipolla di merda! Non piace a nessuno! Invece io lo uso sempre. No, però era per farla piangere. Ah, c'era quello che riabile. Ma quello rosa, quindi, mi dà... Mi dia qualcosa in più, quello rosa? Ah, quello rosa, se riesci a caricarle tutte, dopo... Oh, mio Dio! Prova tanto. Che cazzo fa? Aia. Ah, bello! Comunque le dico, signor Buonetti. Il... Il... Questo colpo... Non lo so, perché è molto, 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 molto... Ma non muori mai? Merdaccia! È molto, molto, secondo me... Dove ha visto il ruolo su? Oh, questa è andata giù bene, via. Sì. Questa è stata semplice. Più della palla, forse. Forse perché erano più lenti. Sì, questo era molto facile. Sì, era molto easy. Vediamo. Grado? Sì. Vabbè, comunque noi ci accontentiamo. Io direi che con questa seconda sfida... Noi ci salutiamo qua. Speriamo. Adesso, sinceramente, non avendo mai montato neanche gli episodi, non sappiamo se sarà... Piccoli episodi, grandi episodi... Ma guardi, direi che piccoli proprio no, anche perché in questo poi abbiamo fatto anche la prima parte, quindi tanta roba, insomma. Che poi, tra l'altro, sono... Allora, perché noi purtroppo non abbiamo quella conoscenza dell'inglese che sarebbe proprio fare, secondo me, a pieno questo. Perché The Root Pack, che sarebbe il... È un pacchetto a radice. Sì, però pacca nel senso di gruppo. Ah. Quindi la banda da radice deriva, è un gioco di parole, su The Root Pack, ovvero la gang di Frank Sinatra. Quindi probabilmente qui ci saranno tante chicche, anche a livello umoristico, che noi non riusciremmo a capire. Peccato. E noi con questo vi salutiamo Obers, il miglior canale... Sul tubo italiano. Ciao! Ciao! Tutti su Obers, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune... Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, l'ha detto mia madre. Il sguardo. Cioè, è una fonte. Ah, vabbè. È una fonte. Sì. Sì.